La provincia di Salerno consegna i lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento per dissesti e movimenti franosi su SP15 Polli Cacciaroli. Per la montare di circa 150.000 euro sono interventi urgenti di protezione civile e finanziati con PORFESR 2014-2020. Lunedì 19 aprile iniziano i lavori, ha dichiarato il presidente della provincia Michele Strianese al chilometro 34 più 100 della SP15 nel comune di Pollica. Con apposita ordinanza sarà disposta quindi dal 19 aprile la chiusura al transito veicolare per consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza e in accordo con il comune è stato individuato un percorso alternativo che verrà specificato nell'ordinanza stessa. L'intervento prevede la realizzazione di un muro rivestito in pietra fondato su paratia di micropali a sostegno della sede stradale da ricostruire il ripristino del piano viabile composa in opera di binder e tappetino in conglomerato bituminoso, barriere ed opere di regimentazione delle acque meteoriche. Sarà nostra premura, continua Strianese, cercare di fare il possibile per evitare troppi disagi ai cittadini e limitare al minimo i problemi di mobilità, soprattutto in vista del periodo estivo. Riapriremo la strada pur con possibili limitazioni, non appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno ben prima della completa ultimazione dei lavori.